BUM 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 BELLA ALDI BUM 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 MEA BUM 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 Le cose che si mette in schia alla reversa, quelle che mette la cadena e anche la strada alla netta, e quelle che non hanno mantenuto il verso e che posta le ruote, perché si accottano la paura che i turisti si portano situazioni che vengono tanto che non fanno venire sulle ore, ma che non c'è soldi che non fanno grignere vengono assieme le storie e le situazioni e da qui cinque anni il Spelleferra conoscere a Duce, tra una piatta e Facebook. Inoltre, grazie al turista, ho scoperto che una Piseda, che è la Bù David Calzavara che è lavorata cooperativa a Mazzin e che dunque con i ghiacci la soldi a che ferri. Se diceva a Bacallò, ma gli schi atomici piuttosto che la gianna dei cinghiali, tipica del luogo e allora ho fatto tre conti e ho detto, dai che provo a metterli insieme e abbinarli insieme a Mingo delle stupidele. E questo è lì che è nato così, molto semplicitata. Anche io sono bello che le famiglie chi le iscrivete. La stramata con Tedes non le sveglia più di modo di fare sempre, già che la proprietà non le fanno non turisti, ma non succede tutto intorno. Adesso sono bello che le famiglie persone che sono iscritte e ho storie da tutta Italia praticamente, da tutto il mondo, pian pian. Ho dalle varie isole, Sardegna piuttosto che Calabria, piuttosto che... ma ormai sono dovente a tutto... ho un cinghiali... se passi dal turismo, non c'è agli uffici, pian piano, perché non c'è loro vengono fuori storie di inumana comprensione. Non c'è un cinghiali di tutto, insomma. Banalissima, però reale sostituire le ire con le grignade. L'educazione e le grignade sarà sempre meglio che le ire e essere in maniera con la gente, che non porta comunque da nessuna mano. Il filo conduttore del turismo c'è qualche gente noi che abbiamo fatto questo gruppo e altre persone che partecipano in questo gruppo, in maniera attiva, che è il filo conduttore che dice se tutto va... se i tacelli va a dunque a suo posto, quindi se sono ricco la gente, se sono simpatici, se sono educati, non sbaglio, se poi la gente la si pone male ai nostri confronti... eh... Se non vediamo fatta, guarda che sta piatta e non c'è perché, tanto do, due c'è dentro un turismo, cerchi e col chef pararia, e se la strampe non si va riesce, ha mai col seppello in grignè. BOOM 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 CHICA BOOM